Sì, io stavo nello Shan, che è un centro commerciale, con un supermercato, con un amico mio e c'era un pallone per terra, feci la bicicletta, caddi, io ai tempi facevo Judo per togliere l'attenzione su di me, che mi stavo incazzando, che mi stavano guardando tutti perché avevo fatto la figura di merda ho preso e feci il taglio Toscia all'amico mio e lo buttai per terra Insomma sei un pezzo di merda Capisci? Io sono buono come il pane, non farei male a nessuno C'è una cosa che ho capito, vedi c'è una morale in tutto questo Mai andare in un centro commerciale con una palla col marzoni Attenzione, attenzione No, che cos'è? Attacco napoletano No ragazzi, l'attacco napoletano Attacco napoletano rilevato Prepararsi alle contromisure Me si ha dimenticato delle va che partiva ogni giorno a quest'ora Alexa stop Quattro ragazzi Basta che parlo, zi, e cambio le situazioni In marzone Guarda sto picca Non so se ve l'ho mai fatto vedere Puoi vedere come muore entro 5 secondi allo spawn Sì è possibile Pugno 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 Lo rinforzo Mamma mia Ve l'ho detto Io provo a farvi capire che non sono il migliore Però ogni tanto non mi riesci Qualcuno sta infattendo Io stavo dentro Ti vedo, ti vedo, ti vedo Ma io non ho il vestito ragazzi Poi sto sartando capirai Sai quanta gente, Gianchi sta sartando Cos'è? Io ho stato un player No voglio andare a cazzo Io giocatore, player Sono un frontman Io sono un player Tu marzone effettivamente lo sei Mi sai che sono io, io col capo Vabbè Nooo Junko è extreme Ma questi troncoman mi bloccano Ma come cazzo si fa? Oh oh Eh ragazzi ma c'è un problema Vai Bravo Bloccagli la testa Mollu Voi lasci, lasci, lasci Voi scala, scala, scala Blu, blu, blu Ragazzi Ragazzi Dovete aspettare che vada più sopra Non appena E' una porca Oh Della madonna P*****a Morta Quattro Io ho Ma giocazzo di due No io lo secco da tibetto E ho otto ore di folle di Among Us Che te regge uno Però l'ho sentito Gianco che l'hai detto Io so che Gianmarco vuole farlo O mini cadenti No 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 A me va bene fare uno su pc Qualcuno sta infassendo Ma la cosa peggiore è il succo di frutta Con il succo di frutta se ti strozzi così che ti esce dal naso è densissimo Una roba orribile E quello è one shop anche io Non capisco soprattutto se l'arancia Marzo mi serviva Godo Devo andare a prendermi la pianina Marzo basta prendersi Perché hai messo sto qua? Senza averne anche pagato i diritti di immagine signori Che è elegante Sexy Preciso Porco dio se non me lo Questo si lo devo avere io Le mo' del marzone clipper Bello che bello il fatto che ero primo all'ultimo rettilineo E indovinate come finisco? Ragazzi non li so fare io queste cose a spirale Mi si incasina il cervello A mezzo del merda Simone Cicalone Sono Cicalone ti puoi chiamare Sono Cicalone ti puoi chiamare Sono Cicalone Quattro ragazzi E lui sono andati noi Sì Perché hanno briciato Sì Però non hanno briciato ancora il muro di Madonna troia Ragazzi sta dentro la stanza C'è poco capita Qualcuno sta in partendo Ragazzi è un fenomeno questo La partita è la sua Così? Così? Mi pare a posto Ah perché c'era il dispositivo Così vada direttamente a prendere la chiave No non poppa mi sa Poppa dopo Ah no Poppa già Quelli Brava Ok Tornare subito qui Tornare subito qui Fatti passare il maestro Fatti passare il maestro prima Dobbiamo salire subito Non sto spingendo Non sto spingendo Non stavo spingendo No è di tutto a sinistra Devi far passare il maestro per prima Ho voglia di impiccarmi eh Porco Dio Italiano di merda Va bene Va bene Va bene Dio Dio Ho la sedia migliore della mia Sto sul mio cacca Sto bavando porco Dio Gli voglio Qualcuno sta infattendo Tornare il VOD ragazzi Ah sì One Mussolini Portiere Ma sei fatto l'autogol il portiere Scusatemi ragazzi Mi date un indizio Com'è successo Perché sei fatto autogol il portiere Che ha fatto Ah ma tu dici musso Sì Ah tiro sul palo Rimbalza sulla schiena Autogol Marzo Marzo Un'ingiustizia Marzo Te devo far Stato Punteggio Tre Durata il voto Non Squadra rossa Onnichan Onnichan Ma Che che ha detto Onnichan Che è Marzo Che è successo Niente Da poco Marzo Hai tutto il diritto Di fantomizzarmi Ma chi ha fatto questo Così La scuola gigante Ma io posso dirti Che ho provato La nuova season Di Apex Che hanno aggiunto I deathmatch E mi sono davvero divertito Un bacione Ti si ama Ma ecco Vedi L'apc funziona Marzo Ti vedo un po' addormentato Scusami Mi hanno detto Apex Nelle cusse Quattro Gli atti Oh Mh Mh Il location Has been Come Marzo Oh ragazzi Era un tentativo Merda è passato qua Che culo Guarda Fermo Mi aprono qua Sto perrone Che è successo Qualcuno sta impartendo 9 italiane All'uscita di The Forest Per Un'ora 60 minuti Non ho fatto altro che fare Libreria Stones of the Forest Click Bug Indietro Click Bug Indietro Bug Indietro Bug Indietro Bug Indietro Bug Indietro Bug Indietro Per 60 minuti Prima di riuscirlo ad acquistare Ok No 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 Un anno amo svizzera Ok ho chiuso Lì da quel problema con la scheda video Poi ti sfancula pure le periferiche Ok vabbè Niente Se poi domani c'hai in ottimo Penso che dovremmo vedere queste cose Eh sì Mamma Dai Sperando che sia solo quello Sì sì Quattro Queste cose Mi dispiace Devo far vedere un'ultima cosa Marzo Che cosa ci devi far vedere Devo far vedere sto calzino Ti piace sto calzino Marzo? Ah che schifo No no ti piace sto calzino? Vabbè si è un po' sporco Ebbè però si è un calzino È un black calzino normalissimo È un calzetto normal Madonna Te finisci il piede in gancrena magari Qualcuno sta infascendo Eh sì questi Stanno giocando a roma vera morte Attento Ottimo Marzo È tuo Gravissimo Oh te l'ho chiuso davvero Eh non puoi Eh vabbè Però hai Ace quindi Tium No Eh no Bravo maestro Eh è sdraiato lì qua davanti È sdraiato lì qua davanti È sdraiato lì qua È sdraiato lì qua È qui a tutta la tua destra Ecco Bravo Sì maestro Nice Quattro Zanè Grazie benità Pupà Grazie di quattro Questa Ragazzi l'ho fatta per voi Perché ieri era San Valentino Ma oggi Avete un amore Michael bentornato Ciao Andrea Buonanotte Stellone Ah no No Questo dolore È un dolore insopportabile È qualcosa che il mondo Non ha ancora imparato A capire Ho sbattuto Il ginocchio Sulla scrivania Quattro ragazzi Do you believe in love after love I can feel something Ciao mazzo Tutto bene I really don't think you're strong enough now Do you believe in love after love Su le mani Castrovilla Qualcuno sta infaccendo Guardate che ti dron Hanno sprecato un cifo E cazzi Molto bene Rezzoro Togli il drone Togli il drone Togli il drone Dei rezzò Maestro Maestro Vuoi arrivare a platino Maestro Francesco No no È 80 È 2 e 20 È 80 Ma non è per 20 C'è una casa Ce ne so due C'hai 79 Ti do un molluro Ti do Stalla il gioco Stalla il gioco Ma perché Ma poi perché dice Così A fare Ora adesso quindi C'è starfazzone Gianco è stato mandato A fare in culo Per quello che ha fatto Adesso con un comportamento Veramente ridicolo Ah però te Dai Farzo Lo sai Senza che cagli il cazzo Tocca a sparare Però non spara Nei giochi dove si spara Presidente Dove tocca a sparare Bisogna Far giocare a fare Gli investigatori No Non armare Non ruota